Come fare il film che... Sì, è morto, è morto, te lo volevo mettere in bocca, tanto se tu dormini non cevi niente. Ho detto, se continui a rifiutare lì mi muore lì direttamente e basta. Adio caro, morto. Poi ti arrivava un pisellone. Esatto. Cazzo no, allegro di Whatsapp. Sei così allora. Ciao, ciao, ciao. Sono giù la terza mattina. Sono giù la parrucca. E io girati. Sorriso.